Siamo in Basilicata, nella provincia di Potenza e nell'Appennino Lucano, Valdagri, Lagone Cresi. L'escursione di oggi ci porterà sul Monte Coccovello, 1505 metri sul livello del mare. E qui inizia anche la campagna con il Golfo di Policastro, il Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano. L'escursione parte a quota, a 700 metri circa, sul livello del mare. E qui siamo in località Fontanelle. E stiamo andando verso il bel vedere del Monte Puglio, che è qui di fronte a noi. Ci siamo quasi. Troppi alberi, che non ci consentono di vedere. È il gruppo del Monte Serino e si vede anche il santuario. Allora, ci troviamo a circa 900 metri sul livello del mare. E qui c'è il Bibio, che ci conduce a destra, verso il Coccovello Basso, a 1265 metri circa, sul livello del mare. Questa strada, non so dove va. Questa strada, non so dove va. Praticello, infatti la località si chiama il Prato, però l'hanno denominato il Praticello. E qui abbiamo la teleferica, i vecchi cavi che vanno verso la vetta. Qui c'era un taglio degli alberi programmato negli anni 40-50. E qui siamo in località Spalla della Fossa Grande. Recentemente c'è stata la Gran Fonda delle tre regioni podistica, però l'hanno stampata, al contrario la freccia. E sullo sfondo la catena del Pollino con Serra del Prete. Serra di Crispo, Monte La Spina, Serra Rotonda. E Monte Alpi, Santa Croce, il Monte Sirino e il Paese di Rivello. E il Monte Crivo, 1.277 metri e trecchina. Sello sfondo Lago Negro. E' il Cristo Re, in località San Biagio e sotto Maratea. Maratea. Grazie a tutti e sullo sfondo il coccovello basso. Località Le Fossette e un saliscendi continuo fino alla vetta. Davanti a noi Monteserra Lunga, 1486 metri circa. È Monteserra o Cerreta, 1883 metri, a seguire Maratea e la croce del Monte Crivo che di sera si illumina. Ecco qua il tavolo smontato, qua ci sono i sedili, adesso ci accampiamo qua e ci facciamo una bella mangia. È l'isola di Dino e a seguire Serra di Castrocucco. E' la spiaggia di Praia Mare. Per raggiungere la vetta si può andare a destra e il percorso è più agevole mentre a sinistra c'è quella cengia che noi andremo a percorrere. E' la spiaggia di Castrocucco. a passare di qua leggermente. Attenzione ragazzi, occhio! Siamo quasi all'arrivo! Oh, lo spettacolo è grandioso! Mimmo, vai! Ahi! Hola! Un treia! Ahi! 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 Ed ora siamo ancor più vicini al Cristore di Maratea. Il Monte Alpi è quello. Frusci. Vedi lì sopra hanno messo la croce. Siamo circondati, siamo in una dolina a 1.505 metri. Alle nostre spalle il Golfo di Policastro è in Monte Bulgaria. Lo spettacolo è maestoso. Andiamo. Andiamo. È troppo bello. Dio ha creato il mondo e l'Italia si è scelto il posto. Eh sì signori qua lo spettacolo è meraviglioso. Davanti a noi Monte Serralunca, Monte Olivella, Sabri e il Golfo di Policastro e il laghetto collinare di Rotale. sullo sfondo Serra del Tuono 1.176 metri. Il Monte Crivo e Monte Crive a seguire Serra di Castrocucco con l'Isola di Dino. E davanti a noi Monte la Serra e Bocca di Mezzo. E con queste immagini un arrivederci alla prossima.